Ad Alcamo in Sicilia nel giorno del 18esimo annuale della milizia si sono celebrati sei matrimoni di legionari e dieci battesimi di figli di richiamati. Alla semplice e suggestiva cerimonia partecipa il 171esimo battaglione d'assalto. I donti vecchi sono belle saltati ma la partita non è chiusa ancora quella che sorgerà la nostra aurora quella che è solta non ti piace più I donti vecchi sono belle saltati ci manca qualche raste lì lassù Tu che? E ti sgusti e per l'impera, e' la regna, va, 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 va.